Al momento rimane Luca e Mazzoli in vantaggio, attenzione, attenzione, guadagnano centimetri preziosissimi, preziosissimi, una gara pazzesca, sei fuori dal limite, scusa Andrea, sei fuori dal limite, devi entrare, devi entrare, finita. Bravo lo stesso Fabio, bravi, venite qui ragazzi, venite qua, complimenti, allora la gara è stata una gara bellissima, bravi, quindi possiamo ufficializzare Alvin? Sì esatto, volevo solo dare questo dettaglio, nella parte finale dell'ultima manche Andrea Locicero è uscito con la spalla e nel rientrare ha perso la forza che hanno sfruttato ovviamente Luca e Mazzoli e quindi sono andati a vincere. Quindi i vincitori sono Mazzoli e Luca. Quindi Pamela, Cristina, Marco e Luca voi siete i quattro naufraghi che si conteneranno il primo posto da finalista di questa edizione, complimenti.